Come difendere la propria reputazione su internet? Questo è il tema del dibattito organizzato dal Corecom del Piemonte per aiutare i cittadini a districarsi nel mondo del web attraverso mirati accorgimenti e che ha coinvolto numerosi giovani che usano la rete quotidianamente. Diversi temi affrontati, dal rapporto utente-consumatore fino ai rischi di un uso non consapevole dei dati immessi che rischiano di diventare un'arma a doppio taglio. Tutelarsi quindi per creare una vera e propria web reputation.